Saena Yatim, titolo italiano. La mia meravigliosa vita, è una serie tv drammatica turca. I protagonisti della serie tv sono. Ilal Altimbilek e Onur Tuna. L'attrice Ilal Altimbilek. Nota come Zuleya nella serie tv Terra Amara. E l'attore Onur Tuna. Famoso per aver recitato nelle serie tv il dottor Ali. Makum Iyasa Kelma. Il primo episodio della serie tv va in onda sul canale Fox il primo novembre 2023. La trama della serie tv, Saena Yatim, racconterà una storia piena di intrighi. Amore, tensione ed eccitazione. Racconta la storia avvincente di Sebnem. Che ha affrontato grandi ingiustizie nella vita. Ha lavorato duramente per superarle. E ora cerca di dimenticare il suo passato criminale che è tornato a perseguitarla mentre viveva una vita meravigliosa. Una giovane ragazza di successo con una borsa di studio e campionessa di matematica in un mondo di abissi profondi e persone privilegiate. Cerca di mantenere la calma nonostante l'indifferenza. La mancanza di amore e la maleducazione che la circonda. L'ingiustizia la costringe a fare una scelta enorme e diventare una criminale. La giovane Sebnem smise di opporsi a questa tendenza e decide di lasciare il suo passato alle spalle. Sebnem. La sposa degli argentieri. La regina della società. Abbaglia con la sua bellezza e il suo stile. Si gode la vita meravigliosa con i suoi due figli e il suo marito. Per ottenere la casa che desidera. Fa progetti a cui nessuno penserebbe mai. Tuttavia. Questa piacevole situazione viene gettata in una pericolosa tempesta da un ospite inaspettato. Niazzi. Uscito dallo scuro passato di Sebnem di cui nessuno era a conoscenza. Giurò di distruggere questa vita che aveva costruito con sacrifici inimmaginabili. Sebnem farà tutto il necessario per eliminare il pericolo di Niazzi. Ma le cose non andranno come lui vorrebbe e alla fine si ritroverà a dover affrontare una dura battaglia per sopravvivere. Sebnem. Che scoprirà se stessa combattendo da sola contro i mostri. Riscriverà con coraggio la propria storia.